bene ritornati in questo nuovo video shhh zitti tutti zitti tutti ecco mi si è già scassato il microfono zitti tutti vedete qui loro vedete aspettate che sto rimettendo il microfono dai dov'è aiuto allora allora aiuto vedete cosa sono io si sono proprio questo ecco e sapete e sapete dove è questa questa mappa bene la mappa di Five Nights at Freddy's uno ecco 13 11 19 secondi siamo siamo su fortnite nella mappa siamo siamo su Five Nights at Freddy's uno su fortnite zitti tutti non lo sa non lo sa dove è attenzione eccola eccola no aiuta ehm ehm levati 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 no no regà no 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 questo è leggendario no non mi troverò mai tassi tassi io ti vedo io ti vedo io ti vedo sono tra un camion e tra un camper che stronzo che stronzo no 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 raga 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 te l'ha detto pure Michael te l'ha detto pure Michael mi stava pure sopra mi stava pure calpessando non è neanche io non so dove mi sono nascosto forse mi sono unito buono lo so no non sono di là ok magari mi stava colpendo no è nascosto no è nascosto no no da riguardare il video assolutamente va bene va bene ok allora sono io sono io allora no non sono io no raga no 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 oh Allora Andrea dove sei? No ma io ho già trovato il nascondiglio Perfettissimo Io adesso divento Io adesso divento un palloncino Raga ho trovato Ho trovato un nascondiglio Aspetta ok Un palloncino No 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 Mi metto vicino a loro No no raga mi metto vicino a loro Qua qua Anzi no mi metto qua 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 Almeno lui non Non è che si sospetta Andrea Eccolo si Chica No veramente Che tu sei Bravario là Eccolo eccolo Vai Prima si Ritorniamo al centro No non posso io Stronzo mi ha ucciso Ah facciamo ritorno al centro Aspettate raga che Ammo un attimo rientro Eh si A me si Giocatore i due nascosti si dai spettatore No 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 Oh ma si è fatto rigenerazione No ritorniamo tutti al centro Si Come Si va bene Si Oh che buone Ma no La pizza la pizza Dov'è la pizza No no la fanno La fanno Abbiamo fatto un cambio di mappa Adesso c'è Un'altra mappa Forse si Eh io che devo fare di qua Ah devo spazio Eh Si ma io sono all'altra parte però Si Ma dove cazzo sta C'è C'è Ma Dove sta C'è non lo so Non posso venirvi a cercare Ah ma aspetta Follow the YouTube Shop Text Aspetta Mi dovete nascondere Forse prima Ecco Ragazzi sto venendo Mi sento Mi sento Tu mi stai vedendo Andrea Ma cosa c'è 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 Lo sento Si Lo sento Si Ok Vai 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 Allora Un attimo Non andate via No aspetta La partita termine Si Riproduci Adesso Ok Due Uno No Eh no Questa no Ah ho perso Metta vita Madonna ma Mamma mia Dove mi sono Dove mi sono Nascosto Presto tutto Da lion Dove nascondermi Non è vero Ma lion Non fa Questo No ma No ma quello È sangue No è sangue No è sangue No dai Che schifo Non mi sono Mi sono messo Proprio Oh Lo sento Lo sento Lo sento Lo sento Lo sento Lo sento Vai 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 Chi è Chi è Non facciamoci caso Vai 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 Vieni qua Tanto loro non ci possono sentire Eccolo Eccolo Che cazzo Che cazzo Vanno Che non sono là Michael E stavo dietro E stavo dietro Corri No no Non è negale Ha 75 Di vita Ha 15 Di vita No No raga No Che figo André André No no Ragazzi Troppo figa Mi era passato Davanti Mi era passato Davanti Vabbè Vediamo Ma Ma Anonimo Chi ha eliminato Ma chi è questo Aspetta Ah forse posso Spenderli io Allora Ma Mi fa vedere Sono in vita Disattiva audio Aspetta Aspetta Oh Quando abbiamo Abbiamo finito di qua E Come Eh Andrea Non farti vedere Se stavo sopra Se stavo sopra È una carta igienica Utilizza il pompa E Ecco No no Va bene Una carta igienica Che salta Eccolo Va bene Ok Ok Ah Sennò io E' l'assassino Dai eh No Ma che cavolo No dai Non mi Non mi dite che È Fixel Cioè Andrea sta A livello 38 Vabbè La mia prima volta Che ho superato Lui Muovetevi Muovetevi 9 3 2 1 Allora No Allora Vabbè Io le sento Ma che cazzo Va bene Non lo so Va bene Vai ritorno al centro Va bene Da refoxingamer è tutto Ci vediamo al prossimo video Ciao ragazzi